e io esco vado a trovare un cugino di secondo grado ci posso andare o no ti posso andare 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro qualcuno vuole qualcuno 5 euro con te Cinque euro! Che minaccia il nostro futuro e comincieremo! Donato! Donato! Il bonus monopattino! Il bonus monopattino donato! Tu non ci crederai che cosa si sono inventati! Il bonus monopattino! Ogni anno 300 milioni per vestiti di zombie, di scheletri, di cose orrende, mostruose, tutto per importare una tradizione che non è la nostra. E dimentichiamo invece le nostre radici, dimentichiamo la tradizione, la zuppa di ceci, il pan dei morti. E allora io dico no, io non voglio festeggiare Halloween. Io Halloween non lo voglio festeggiare. Io Halloween non lo voglio festeggiare! Non lo voglio festeggiare! C'è niente! Cosa abbiamo fatto in questi due mesi e mezzo? Niente! Dov'è il decreto? Lei ha visto il decreto? Il decreto dov'è? Il decreto di giugno che era di maggio, che era di aprile, pensato a marzo, per la crisi di febbraio, che era iniziata a gennaio, che al mercato mio padre comprò a santo cielo! È una fila strocca! Sono parole! Adesso 21, 33 e 52 secondi, non c'è ancora! Bellanova! 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 Non voglio più sentire il gerundio! No, stiamo facendo! No, stiamo realizzando! Bellanova! A cosa serve? Bellanova! Ascoltate! Zero, 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 poi torno da voi e vengo da voi! Donato, dammi trì! Dov'è? Tridico! Vergognati! Tridico, sapete cosa è? Ha detto, ha avuto il coraggio di dire... Donato, donato gli assistenti civici! Tridico! 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 Diciamo anche quello, oggi le dico tutte, eh! Oggi non mi tridico! Tridico! Benetton, benetton, sapete cosa è? L'imbuto? Lo vedi? L'imbuto non si può riempire! Azzolina! L'imbuto non si può riempire! Azzolina! Come fai? Come può? Nel casino non si capisce niente! Donato! 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 Donato dove sono i soldi? Donato! Donato dove sono i soldi? 3 euro! 3 euro! 3, 1, 1, 2, 3! Voi dite che uno poi non dà i nu! E pensare che Conte aveva detto cosa aveva detto Donato, fammelo risentire, fammelo risentire! Donato! Donato! La scatola di Plexiglas dove in scatolare i ragazzi a scuola come dei cetrioli sottaceto! Boccia! Boccia! Alcuni! Alcuni! Sarò pazzo io? Fammelo dire qua! Sono pazzo? Io sono io pazzo? Sono pazzo io? Sì! Sono pazzo io? CiEstodu! Sôio è Stella! È stato fatto!